Salute a tutti i tuoi fatti, mi chiede. Salute, salute, salute. Ciao, io ti sentivo alla radio, quando c'è la radiolina di stupendo, ti seguivo e mi fa molto piacere. Ecco qua, ho una sorpresa per te, ti chiedo una marina del salutatore, io sono il salutatore, per salutare tutti i tuoi fatti. Ciao, grazie.